La donna di cui stiamo parlando ha un nome strano per i tempi moderni, si chiama Acepsut ed è una donna che ha tracciato un sulco proprio fondamentale nella storia delle donne. Tenete conto che a quel tempo la civiltà era una civiltà maschile e muscolare, quindi la donna era considerata un supporto al guerriero o al potente. Stiamo parlando di 1500 anni avanti Cristo, 3500 anni fa, hanno più, hanno meno. E questa donna ha avuto il carattere, la forza, l'intensità, l'abilità di infrangere le regole del tempo. Mi è piaciuto nominarla in questo libro come forte come un uomo, bella come una dea, perché lei ha tenuto... Sì, sicuro che era una donna. Era una donna e c'è una prova documentale perché ha partorito. Quindi proprio... Ah già, giusto che c'è avuto il figlio. E quindi che succede? Che questa donna doveva tenere, doveva tutelare il futuro faraone, Tutmosi III, fino a che non fosse diventato adulto perché era troppo bambino. E ha preso temporaneamente il potere. Bene, cosa succede? Che lo ha talmente preso bene questo potere temporaneamente che il faraone, Tutmosi III, è diventato faraone quando lei è morta. Quindi proprio non l'ha più ceduto. Ed era talmente osteggiata che, perché aveva fatto una carriera, come dire, non seguendo i canoni, che la sua storia voleva essere cancellata, ma voleva essere cancellata anche per un altro motivo. Perché lei era innamorata di un ragazzo che, la leggenda racconta, l'avesse salvata dalle acque del Nilo quando era bambina. Erano coetanei, avevano circa 15 anni. Questo ragazzo è diventato un grande architetto. Tant'è vero che il tempio di Edehel Bari, che è uno dei tempi più belli dell'antico Egitto, sembra disegnato ieri da uno studio di architettura, è il tempio che lui ha fatto per lei. Solo che quando questo amore segreto è diventato palese, quando lei, pur destinata a un altro uomo della gerarchia, è rimasta incinta dell'architetto di corte. In quel momento lei era ergente, era il faraone. Quindi le cose si è inventate, e questa è la prima traccia nella storia, si è inventata la prima famiglia di fatto. Perché ha partorito la figlia avuta da questo architetto. Ha nominato questo architetto gran sacerdote. È come se l'imperatore nomina il papa. E ha dato la tutela della bambina al gran sacerdote. Perché non poteva tenerla lei in quanto faraone. Di fatto ha dato la tutela al suo braccio destro, che vedeva quotidianamente per motivi politici e non. E quindi ha creato la prima famiglia di fatto della storia. Ti puoi immaginare quanto sia stata odiata da tutta la gerarchia dei grandi sacerdoti e da tutta la gerarchia politica. Tant'è vero che hanno provato a cancellarle. E qui nasce il mistero. Perché io ho raccontato solo una storia d'amore, non sarei stato dedicato né capace. Loro, visto che quando lei è morta, lui ha visto che stavano cancellando fisicamente, scolpivano via le sue statue, i suoi geroglifici. Lei, lui che ha fatto? Si è fatto una doppia tomba. Cosa vuol dire? Una tomba da gran sacerdote, dove era obbligatorio non disegnare nulla che non fossero fiori e oggetti di arredamento. Nulla di più. Lui si è fatto una piccola tomba, ma veramente due metri per due metri, più bassa di me, più bassa di due metri, dove si entrava... Tu non ci starei. Io non ci starei, neanche ci devo stare inchinato. E questa tomba non l'ha fatta in un cimitero, l'ha fatta nascosta, disassata rispetto al tempio di lei, molto sottoterra, ma come? Con un tunnel che collegava la sua piccola tomba con la camera funeraria del faraone. Quindi collegati per tutta la vita. A 1500 anni a.C. è già stato fatto tutto. Furbizia di oggi. E non solo, ma lui sul soffitto, non scolpito come in tutto il resto di questa piccola tomba, ha disegnato un cielo che doveva essere uno dei grandi segreti che veniva tramandato da gran sacerdote a gran sacerdote con dentro qualcosa che non si sarebbe dovuto sapere.